Oggi vedremo un esercizio molto semplice ed efficace che può essere svolto sostanzialmente dappertutto, la cotta. Questo esercizio fondamentalmente richiede tre accorgimenti fondamentali. Il primo accorgimento consiste nel tenere i gomiti stretti durante tutto il movimento della cotta. Il secondo accorgimento fondamentale è che la testa va mantenuta bassa. Il terzo accorgimento, che è un errore che fanno tantissime persone, consiste a non alzare i piedi posteriormente, quindi non alzare il ginocchio, altrimenti la cotta si impiglierà dietro. La cotta è un esercizio che si impara sbagliandola. Quindi fondamentalmente non vi preoccupate se era sbagliata la mia volta se fate casino perché è perfettamente normale. Anzi, per assurdo, più sbagliate meglio è. Sono Antonio Marroni e questa è Officina Fitness. Grazie a tutti.